C'è stato un momento in cui qualcuno ha scritto che io dicevo bugia all'avvocato, è il caso di Vieri. Nella sostanza doveva essere sceduto, almeno così dicevano i giornali, e io però avevo detto all'avvocato il giorno prima dell'assemblea, avevo detto all'avvocato, guardi avvocato, io Vieri non lo do, perché mi hanno offerto 28 milioni in 5 anni e quindi ritengo che sia una trattativa inutile. E l'avvocato mi disse, vabbè, allora io dirò in assemblea Fiat, dove mi chiederanno più della Juve che non della Fiat, dirò che mi ha detto ma oggi che Vieri non si cede. Infatti lui ha detto questo, solo che io nel momento che lo dicevo ho venduto Vieri.